Buongiorno ragazzi, qui è brusco e ben ritrovati nel mio canale, sono qui nel quarto episodio di Outlast Abbiamo appena incontrato il dottor Worker Worker, mi sembra che si chiami così E ora sono qui, mi sono liberato e devo sfuggire Non ha più niente vecchio Oh, 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 oh Qualca puttana, via! Cattinion bag Vedo che facevo il furbo Oddio, mamma Mi hai trafitto Io in modo che cazzo vado Guarda là Oh, 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 oh Vedo cosa sta succedendo Tu sei morto Vuoi un po' di attenzione Perfetto e comprendendo Sono qui per te Ti darò una attenzione molto speciale Oddio Dopo tutte queste sofferenze di bollo Mi è andato a uccidere Cazzo, quello vuole andare da me, mo Qua mi conviene a scappare Cazzo Merda C'era tutto Che cazzo fa? Via, 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 via Guarda di qua l'ascensore Ti serve una chiave? Come mi serve una chiave? Salta su, salta su, salta su Merda Io mo dove cazzo vado? Di qua, zio? No Per le tucce Mi serve una cazzo di chiave Per andare qua l'ascensore Merda E qua, e qua, e qua Lo sento Via, 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 via Sarà tutto Oddio lo sento correre Cazzo E qua, e qua, e qua Oddio È là Via, via No, ma perché si blocca? Ma che cazzo fa? Ma come la apre la porta? Viene un bag No, 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 no del signore no ma che cazzo fa oddio sarà 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 ma perché la apre mai scemo ragazzi giuro non so dove cazzo cazzo qua in piccolo ceco ora dove ero prima di qua di qua di qua di qua è che cazzo eccolo porca puttana via dai che forse c'è un po di tempo ma per scoprire dove cazzo devo andare questo qua c'è una porta questo l'ho ucciso madonna mia piano dai apri la un altro bagno non ci credo no no un altro forse quello di prima semmo questo fa il giro mo oddio è qua via via madonna chiudi la porta chiudi la dove 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 porca di quella puttana no di là no di là no cazzo me è così giro in tondo madonna ma è ancora là oddio è finita raga è finita è là ok se vieni di qua sono finito sono morto merda sta arrivando sta arrivando qua qua si avverà a posto sto letto no cazzo oh cazzo vai via ma visto apri lo so che dovrei chiudere la porta ma non ce la faccio raga ho troppa paura chiudi via di troia oddio ma sono tornati all'inizio cazzo qua siamo dove dove eravamo prima c'era bene qualcosa qua no niente questo è morto si è morto è brutto anche questa non si apre madonna dove cazzo devo andare raga adesso me lo ritrovo davanti oddio no questo è bagno è qua via no lasciami andare ti prego madonna mia fortuna che ha fatto il furbo merda è qua siccome è quella la porta che devo usare e non ho più batteria non ho più batteria oddio è qua madonna del signore è qua lecche di tre certo oh madonna mia è solo una porta qua torno ancora oddio ma lecche di tre madonna del signore via oh madonna mia se l'ho fregato qua via gabbo via 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 chiudi la porta bastardo no di qua di qua là c'era una porta ma c'era merda la batteria non ce la fa più il mio omino a correre sposta sto armadio bastardo come dire che mi sta ancora inseguendo no non c'è più dimmi che c'è pace oddio che cazzo taluk strums speriamo che non mi segua anche qui il tipo qua sanno le docce qua non c'è non cazzo c'è un piede oddio oh madonna del signore qua mi ero tutto tranquillizzato no aia di qui non si passa vaffanculo merda ha aperto la porta no 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 chiudi la porta che cazzo la trovo la chiave madonna del signore ce l'avevo dietro ce l'ho dietro non fai un cazzo devo arrivare lato dove devo qua c'è un punto poi ce l'ho trovato sali madonna oddio ma qua era dove eravamo prima oppure no documenti questa è la mia terza richiesta di trasferimento invece che non ottene risposta non voglio più lavorare a Mount Massim in tutta la mia lunga carriera del collaboratore non ho mai riscontrato la segretezza mancato il rispetto persino il sospetto che alcuni pazienti subiscono dei tema trattamenti conoscevo personalmente due di loro sono state trasferite nelle porte sotterranie e nessuno ne ho più visti se non riceverò più risposte questa mail sarà costretta di us insieme per salutare tutti io ho bisogno di di quella chiave di merda porca puttana oh no ma siamo davvero prima no siamo in un nuovo posto qua ricarichiamo queste batterie vaffanculo shit chiave oddio che cazzo è lui devo ricordarmi la strada ma merda di qua non posso andare questo qua è tutto chiuso merda 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 piano raga che cazzo metto nel bagno mi sa è qua via 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 salta bravo bravo semo ascensore è là l'ascensore è là è là è là è là è là vai vaffanculo su ca bastardo come non si arrendi merda oddio è entrato è entrato si sta morendo no e là c'è l'uscita e mo vabbè però questa è sfiga rega dai ragazzo sto mo no madonna che schifo il culo ma dai merda devo andare giù spremilo mo di qua no di qua no semo devo tornare giù ok delle scale grande che cazzo delle cazzo di batteria non ci sono ma c'è ancora c'è ancora il warrider comunque che sarà ben da qualche parte chi è quello là è il prete è vero che c'è anche lui figlio di puttana sono le batterie qui dai sta arrivando a bomber facciamo amicizie dai facciamo pace devo cercare padre martin oddio batteria sto qua sta bruciando chi è che l'ha bruciato io madonna mia che fumo che c'è non schifo sto cercando batterie raga non mi dite niente ok apri qua qua c'è che è qua c'è un poliziotto qua ci si nasconde qua c'è un documento signor signor la prega di accettare le immediate di vicino del collaboratore davidano parli di coverla come paziente di mod massi per con la maniera di persecuzione di recesso di posti per nascondersi ma non c'è nessuna via d'uscita qua però c'è una porta forse forse di qua rega qua no sono all'esterno cosa che è è un casca via posso passare di qui no madonna mia c'è tutto del fuoco è fatto bene ti appoggio grande tranquillo tranquillo è fatto benissimo posso uscire passando dalla cucina qui dentro non sono l'unica vittima proprio no ho visto un uomo lasciarsi bruciare vivo pur di non rimanere qui la morte è più dolore che si possa immaginare ok attiva gli spezzatori per spegnere le fiamme come cazzo facendo gli spezzatori di qua dimmi che di qua dove sono gli spezzatori raga e carichiamo le batterie qua siamo al buio documenti se soffri di vicelezioni facciolo sapere il precisore deve essere servicinato patologico non è nulla di vergognarsi qua c'è una croce gigante e basta patrick per petriana questo batteria l'anno si può passare che senso a sto posto guardare un documento basta ora qua c'è il fuoco da dove siamo venuti di qua niente dobbiamo bruciare sto posto raga assolutamente assolutamente prima devi aprire le due valvole nell'acqua perchè c'è un nascondiglio qua c'è qualcuno che mi romperà il cazzo blandri va eccolo move move shanta madonna ragazzi dobbiamo attivare le due pompe ci rivediamo domani col prossimo episodio ragazzi ovviamente vi invito a lasciare un like e un commento qui devo andare via ragazzi qui da capo di square è tutto bala ragazzi